In che lingua raccontare le storie che ci hanno raccontato e in che lingua scrivere una lettera d'amore? Forse questi due versi di Odette e Semedo che aprono il film è una poetessa della Guinea Bissau, sono un po' il lemma che poi ci porta nel film alle questioni di fondo. Sì, vero l'amore, una lettera d'amore scritta dalla giovane adolescente, l'amore nell'educazione sentimentale della madre, che viene dalla Guinea Bissau. Nella mia intenzione effettivamente un flusso, un flusso di parole, un flusso di esperienza e questa idea dell'educazione sentimentale, un'educazione sentimentale che però non è solo amore ma è il rapporto col mondo e in questo senso il film si colloca in un palazzo nel centro storico di Lisbona, tra la mia esperienza di questo palazzo e l'esperienza di queste donne. Per questo dico l'amore forse è il nostro rapporto col mondo o forse con il cinema, con un'educazione sentimentale che ci mette in rapporto con lo spazio, con le nostre storie e con le storie degli altri. È un po' questo che vorrei fare in questo film, quello che vorrei proporre in questo film. In questo senso forse le due figure così distanti, l'apparenza di un ritratto di due figure così distanti, geograficamente per noi donne, non solo geograficamente, sono anche due donne musulmane, probabilmente siamo portati a pensare che il loro universo sia molto distante dal nostro, forse sono storie di vita molto diverse anche dalla mia. In realtà a mio parere è proprio nell'intersezione tra questi mondi che esiste un senso della storia, del linguaggio e dell'amore. Quindi per me sì è un ritratto, forse anche la forma plastica che scelgo di guardare molto i visi e di lasciare che il flusso delle parole scorra mentre guardiamo i loro visi, fa pensare ad un ritratto. Mi è piaciuto però contrapporre a questo la percezione del palazzo, proprio come spazio in comune. E anche il mio quinto piano, il film si chiama Terzero andare, in portoghese, in italiano la traduzione è terzo piano, è il piano dove loro abitano, ma nel film si vede anche il quinto piano, oltre a vedersi tutti i pianerottori, tutte le scale, e un tentativo di accarezzare un po' lo spazio audiovisivo in termini sonori, in termini di quel che possiamo sentire in un palazzo, nella percezione della vita in comune. I suoni sono diversi. Si vede anche il mio quinto piano e si vede anche, poi c'è anche una citazione cinematografica, per questo dicevo nell'educazione sentimentale può entrare anche il cinema nel mio caso, perché quando arriviamo al quinto piano, quel che ascoltiamo non sono suoni di vita familiare, in realtà è la radio, la radio italiana, è il Rai 3 che mi accompagna quotidianamente, è un programma proprio sul cinema, Hollywood Party, che è un programma che con il cinema, la radio, il cinema in diretto, mi riporta alla voce di Alida Valli. E Alida Valli sorge per me come forse un esempio della mia educazione sentimentale. Dico questo perché in quanto donna ricordo quanto il cinema sia stato importante per me, un'erità forte proprio nella mia educazione sentimentale. Quindi le voce di queste donne, Alida Valli, in senso di Visconti, o Anna Magnani, in Roma Città Aperta, sono voci e visi che hanno contribuito alla mia educazione sentimentale. Quindi in questo film, nello spazio in comune, ascoltiamo la vita di una famiglia numerosa, musulmana, di origine della Guinea-Bissau, e allo stesso tempo ascoltiamo qualcosa che mi appartiene come educazione sentimentale. Quindi è la proposta di linguaggi che si incrociano, di vite che si incrociano all'interno di un palazzo nel centro storico di Lisbona. Mi piacerebbe concludere la questione del linguaggio raccontando qualcosa di contingente. Stamattina ho letto su Repubblica l'intervista a Nanni Moretti, che parlando di Palombella Rossa, ritornava alle questioni di linguaggio, e quindi al problema della deriva del linguaggio. Io devo dire che tra le mie priorità in questo film e in molti altri lavori che ho fatto, che attraversano temi diversi, che in realtà, come dicevo prima, c'è un'apparenza dei temi che è data dai segni più evidenti che abbiamo nell'immagine, e poi c'è qualcosa che è la nostra preoccupazione alle spalle. Effettivamente in questo film, in cui queste donne si traducono l'un l'altra, passando dal Fula, che è un dialetto della Guinea-Bissau, al portoghese, che è la lingua che la figlia apprende fin da piccola, e che è la lingua che media poi il rapporto di questa donna, che vive solo in Fula, con il mondo in cui vive, e anche con me. C'è un flusso nel film che è un flusso che parla di lingue e linguaggi. Lingue e linguaggi è per me un'operazione che forse propone qualcosa contro la deriva del linguaggio, che è l'attenzione che abbiamo alla coesistenza di lingue e linguaggi diversi nella vita del nostro quotidiano. In una città come Lisbona succede in un palazzo, in un appartamento come il terzo piano del mio palazzo succede che una madre di origine della Guinea-Bissau abbia un dialetto che è l'unica lingua che usa, perché è sempre in casa, e la figlia già parla portoghese, quindi c'è questa lingua di mediazione con il mondo esterno e anche con me. In realtà mi interessava riportare questo gioco della lingua, della traduzione l'una verso l'altra, da una voce all'altra, da una lingua all'altra, da una possibilità di comunicazione all'altra, proprio per parlare dell'importanza del nostro ascolto e della percezione più profonda di queste lingue, per questo che non traduco il fula. Quindi lascio che l'ascoltatore e lo spettatore possano ascoltare guardando un viso, una lingua che non conoscono, aspettando che una traduzione sorga come la possibilità della comprensione. Quindi in tutto questo gioco forse è un'operazione contro la, spero, forse è un'operazione contro la deriva del linguaggio, per un'importanza data alla parola e alla comunicazione. Per quanto riguarda l'esperienza che ho avuto con queste donne, non è un'esperienza, è un'esperienza che precede il film, e precede il film di molti anni. Io abito in quel palazzo da 24 anni, quindi è un palazzo che ho vissuto a fondo, sono cambiati molti abitanti vicini nel frattempo. Loro sono lì fin dall'inizio e sono diventati in realtà degli amici, degli amici nel senso in cui il nostro scambio di esperienze precede il film. Dico questo perché dai primi incontri sulle scale, dal primo caffè offerto dal marito di Fatoumat nel bar sotto casa, alle conversazioni avuto con la bambina, perché l'ho vista nascere in realtà, e con la madre, ogni volta che nascevano nuovi figli, le ha già sei figli, si è sviluppato in realtà un rapporto di intimità familiare, nonostante è steso dall'appartamento al palazzo. Quindi, come dicevo, nonostante questa forte diversità della nostra esistenza, è stato possibile uno scambio. E questa esperienza del film è nata come una proposta da parte mia di integrare il cinema nella nostra relazione in realtà, quindi di invitarle non ad essere rappresentate o ad essere ritratte, quindi non un'incursione mia nel loro mondo. Forse avrei notato che nel film io mostro poco e informo poco sulle loro vite, ed è una scelta, una scelta perché mi piacerebbe che il documentario fosse, il cinema fossero un'occasione di parlare di uno spazio che si crea tra me e l'altro, e non un'incursione nel mondo dell'altro in termini di rappresentazione. Quindi l'idea di uno spazio tra me e l'altro, che in questo caso è rappresentata al palazzo, per questo nel film si vede poco della loro casa, si vede più delle nostre abitudini, quindi si sente un suono che sembra il battito del cuore, si sente un suono che è continuo, che sorge in casa più o meno intorno alle sette di sera, quando io torno a casa e ascolto Hollywood Party, ed è lei al mortaio che prepara la cena. Per cui sono due suoni di universi diversissimi che però si sovrappongono acusticamente all'interno del palazzo. Quindi questo punto di intersezione mi interessa, come dicevo, non come una volontà di rappresentazione dell'altro, ma come una volontà veramente di rappresentazione di uno spazio in comune. e con loro il gioco delle lingue, il gioco della memoria, il gioco della collaborazione, che in realtà è nata attorno a questa prima lettera d'amore che Isatto scrive, è stato un gioco in cui ho invitato loro, come dicevo, ad entrare nel cinema più nel mio mondo e in realtà è anche nato perché Isatto, la lettera d'amore l'abbiamo filmata tre anni fa, in realtà precede anche il tempo reale di quanto ho filmato poi con loro quando ho pensato il film, che in realtà è stata una richiesta, una vera richiesta di aiuto. Lei mi ha chiesto se per favore potessi aiutarla a scrivere una lettera d'amore che voleva fare in video. Questo è successo perché in realtà con lei avevo filmato precedentemente in altre occasioni in un altro film, le avevo chiesto una collaborazione e a lei è piaciuto molto. L'anno dopo un mio collega ha fatto un workshop nella sua scuola di cinema e lei si è entusiasmata ed effettivamente quando si è innamorata ha pensato al cinema, quindi ha pensato che scrivere una lettera d'amore fosse più bello farlo in un video che nella scrittura. Quindi tutti i dubbi che lei porta nel film quando siamo insieme montando quello che lei mi ha chiesto di fare per questo ragazzo, sono dubbi reali. Lei si chiede se prima l'immagine, poi la parola, che poi sono dubbi che condividiamo tanto quando facciamo un film, il luogo da dare all'immagine, il luogo da dare alla parola. Il film di Guzman l'ho visto quando stavo già post producendo, l'ho visto al Doc Lisbonne l'anno prima quando avevo già filmato con loro e sono stata contentissima perché in realtà ho guardato quel momento che lui costruisce con la donna di traduzione attorno alle parole, quasi, è molto simile al momento che ho alla fine del film ed ero molto contenta perché ho incrociato quell'esperienza con felicità. In realtà io alla fine del film costruisco quasi un glossario, un glossario dell'amore, un glossario dell'amore al femminile in cui ho ripescato delle parole e abbiamo ripescato insieme delle parole che sono sorte all'interno delle nostre lunghe conversazioni. Quindi, estrapolandole dalle conversazioni, creavamo un glossario insieme nel gioco di traduzione tra la madre e la figlia. Sì, quindi le parole chiave, in fondo, se vuoi questa sintesi, direi che sono educazione sentimentale, trasmissione e traduzione, nel senso più ricco di tutte queste parole messe insieme, nel senso più... forse una sfida di tutte queste parole messe insieme e di ognuna di esse in quanto sfida. Per quanto riguarda il mio lavoro di un cinema che va fuori, io non sono una videoartista, è una definizione in cui non mi riconosco. Io sono una cineasta che ama uscire dalla sala cinematografica per sperimentare altri spazi di incontro con il pubblico e altri modi di montare il cinema, il suono e l'immagine. Altri modi di montare il cinema perché nello spazio espositivo posso comporre lo spazio, posso moltiplicare l'esperienza dell'immagine o del suono o viceversa. in questo caso, per esempio, con Terziero Andare che è in mostra adesso a Lisbona fino a fine gennaio al Museo Gulbenkian. Dall'inizio avevo veramente bisogno di creare due oggetti diversi. Un film con una narrativa in cui c'è questa lettera d'amore, in cui c'è questo rapporto tra la madre e la figlia e lo spazio del palazzo. È un'installazione che è un dittico, quindi due schermi e uno spazio sonoro in una sala espositiva molto grande in cui veramente la proposta cambia di segno. Non c'è la lettera d'amore, le nozioni della parola, della traduzione, trasmissione sono date ancora più spogliate della preoccupazione narrativa e molto più una messa a fuoco su queste nozioni e la possibilità di farle esistere estrapolandole da una storia, quindi con una mise en place di queste preoccupazioni nello spazio. Quindi due schermi in cui l'idea del dialogo è orizzontale, in cui l'idea del rapporto è orizzontale, in cui l'idea dell'immagine è anche orizzontale, e poi la verticalità delle radici, la verticalità del nostro percorso attraverso il palazzo. Quindi un gioco formale e sulle nozioni, più spogliato della preoccupazione narrativa è che si fa luogo, si fa luogo da visitare, si fa luogo da percorrere, si fa luogo da scegliere anche, perché lì lo spettatore sceglie di essere in rapporto nel suo tempo di elezione, insomma, con quanto io propongo. Vivo a Lisbona da 25 anni ed effettivamente potrei dire di avere un po' trascurato, in fondo, il rapporto con l'Italia, un po' tralasciato, tralasciato, trascurato. Una contingenza felice, Davide Oberto, codirettore del DOC Lisbona, dove ho deputato con terzio di andare nel concorso per la competizione portoghese. Mi ha invitata perché preparava questo TFF DOC sull'amore. Devo dire che l'idea mi ha sedotta perché nel campo del tema dell'amore sembrava un invito che seduceva in questo momento la mia scelta di tornare qui in Italia con un lavoro. Quindi venire qui a Torino è stato veramente molto bello. Mi piaceva anche perché in fondo in questo film tra il terzo e il quinto piano c'è il rapporto tra la mia esistenza e c'era questa eccitazione del cinema italiano così forte. Quindi sembravano un po' conciliarsi le caratteristiche di un ritorno felice. Spero di essere arrivata anche con il mio film agli spettatori del festival come vorrei e vi ringrazio molto. Grazie a tutti Grazie per la visione!